Tutto iniziò il 29 ottobre 1969. Due programmatori, nella stazione di Roaring Creek in Pennsylvania, riuscirono a far comunicare due computer, facendo nascere ARPANET. Questo fatto fu l'inizio di una nuova epoca. Già nel 1973 la rete si ramificava in gruppi distinti, ma purtroppo non comunicavano tra di loro. In compenso a questo ci furono varie proposte sul come scegliere lo standard di comunicazione, ma infine si utilizzò i TCP barra IP. Anche se più tardi, l'Italia si collegò ad Internet. Fu il 30 aprile 1986, grazie a Luciano Lensini, che partì il primo segnale dal centro universitario per il calcolo elettronico di Pisa fino all'America. Da allora ci fu una vera evoluzione di Internet in Italia, tra riunioni, pubblicazioni ed assemblee. Adesso Internet è il primo mezzo di comunicazione al mondo e qualsiasi informazione passa prima dalla rete. Internet per me è divertimento! Internet per me è musica! Internet per me è condividere! Internet per me è conoscere! Internet per me è gioia! Internet per me è felicità! Internet per me è scoprire! Internet per me è tutto! Internet per me è tutto! Oh, mi è arrivato il messaggio!